Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento e la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare la loro fiducia al centrodestra e che hanno premiato il nostro buon governo, le nostre proposte e la nostra concretezza. Abbiamo ottenuto conferme importanti e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona, conferma del fatto che non esistono più le roccaforti e che i cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone. Un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti. Il governo lo troverete sempre al vostro fianco. Salve a tutti i nostri spettatori, salve a tutti quanti, benvenuti a questo appuntamento speciale di Polis dedicato alle amministrative duemilaventitré, ai risultati delle elezioni amministrative che si sono svolte per quanto riguarda il primo turno, il quattordici e il quattordici maggio e per quanto riguarda il secondo turno, il ballottaggio, lo scorso weekend. Ovviamente in mia compagnia per commentare i risultati di queste elezioni amministrative abbiamo il professor Luca Lanzalaco. Buonasera professore. Buonasera a tutti. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Buonasera Umberto. Allora come dicevo il quattordici e il quindici maggio più di seicento comuni in tutta Italia sono stati chiamati al voto e una parte di questi poi è andato al ballottaggio al secondo turno lo scorso weekend e adesso ci troviamo qui a commentare i risultati. Come d'uso fare ci concentreremo principalmente su quelli che sono i comuni cosiddetti superiori, cioè quelli che hanno più di 15.000 abitanti, che sono 91, con dei risultati veramente molto importanti per quanto riguarda il centrodestra. Allora chiedo a Giulio dalla regia ti mandare subito il secondo contenuto di puntata perché di questi 91 comuni superiori che andavano al voto sappiamo che al primo turno ben 22 erano stati eh aggiudicati dal centrodestra, 16 erano andati al centrosinistra e 13 alle liste civiche. Dopodiché c'era il ballottaggio, ben 40 comuni superiori al ballottaggio che si è concluso come dicevamo questo weekend e di questi 40 comuni 18 sono stati presi dal centrodestra, 12 ben 12 dalle liste civiche e 10 dal centrosinistra. Quindi un risultato molto importante per quanto riguarda il centrodestra che vince anche e soprattutto nei capoluoghi al voto come possiamo vedere nel contenuto numero 3 perché di questi 91 comuni superiori di di cui eh parliamo ci sono ben tredici capoluoghi. Prego Giulio il contenuto numero 3 per favore. Ecco come vedete abbiamo 12 capoluoghi di provincia più un capoluogo di regione che è Ancona e abbiamo ben nove capoluoghi che sono andati al centrodestra, tre al centrosinistra e uno a una lista civica che è il comune di Terni. Tra l'altro questa lista civica si eh si dice sia molto vicina alla alla destra per quanto riguarda gli ideali insomma l'ispirazione della lista civica stessa. Di questi comuni abbiamo ben quattro comuni che superano i centomila abitanti che sono Brescia, Latina, Terni, Terni e eh Vicenza e quindi come abbiamo sentito anche nell'audio di Giorgia Meloni non esistono più le Roccaforti, il centrodestra si aggiudica Ancona nonché si aggiudica comuni importanti in Toscana che da sempre era considerata una regione rossa come si so dire. Dato importante che ovviamente analizzeremo insieme ai miei ospiti è l'assenzionismo, un assenzionismo che si eh conferma molto elevato. Al primo turno sappiamo che avevano votato il sessantadue virgola ventidue per cento degli aventi diritto al voto mentre al ballottaggio ufficialmente la metà degli aventi diritto al voto è invece rimasta a casa perché a votare sono stati soltanto il quarantanove virgola sei per cento degli italiani chiamati al voto. Ecco un assenzionismo quindi record che eh lascia molti dubbi e molti margini per analizzarlo insieme. Passo subito la parola al professor Luca Lanzalaco chiedendogli di commentare eh soprattutto per quanto riguarda il PD quindi il centro-sinistra questi risultati. Prima però ascoltiamo il commento di Ellie Schlein. Prego Giulio. È una sconfitta netta. Sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore del delle destre è ancora forte c'è ancora eh ringraziamo comunque tutti coloro che si sono spesi i nostri candidati con generosità in queste elezioni. C'è da fare sapevamo che sarebbe stata difficile eh non si eh ricostruisce non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone eh per cui ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia per ricostruire un centro-sinistra nuovo competitivo e vincente. È andata male nei capoluoghi eh meglio nei comuni medi eh però eh dico subito che il fatto che il Partito Democratico sia la il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione perché è evidente che da soli non si vince eh c'è da ricostruire un campo alternativo ad una destra che è divisa su tanti temi ma quantomeno quando si tratta di andare al voto si presenta unita anche nei luoghi dove al primo turno era andata separata e quindi sentiamo la responsabilità di costruzione di un campo che credibilmente contenda alla destra la vittoria ma è una responsabilità che non riguarda soltanto il Partito Democratico. Noi chiaramente sappiamo che continueremo a rimboccarci le maniche e a lavorare con ancora più sforzo, lo stiamo facendo anche in queste ore per rilanciare sulla nostra proposta, sui temi cruciali per noi, per il futuro del Paese. Nel frattempo chiaramente questa è una sconfitta e come tale naturalmente la viviamo eh al netto appunto di come dicevo nei capoluoghi è andata male salvo eh la bella vittoria di Vicenza è andata meglio nei comuni medi. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e a presto. Professore, Ellis Line ammette la sconfitta e chiede tempo per costruire il PD, ricostruire il PD. Cosa ne pensa? Come legge lei queste elezioni? Allora, un dato sicuramente apprezzabile il fatto che venga riconosciuta in maniera così chiara, palese la sconfitta perché eh di solito eh costume tra i politici è invece quello di comunque di dimostrare in qualche modo che hanno hanno vinto. Invece ecco l'ammissione di una sconfitta è è un fatto positivo. Eh punto un. Punto due è che si ha che si domandi a questo punto la eh segretaria del PD perché c'è stata questa sconfitta e qui vedo parecchie lacune perché ci sono in questo intervento mh termini evocativi il vento di destra eh piuttosto la nostra proposta ecco la nostra proposta evidente fra virgolette perché non eh non è mia e quindi comunque la nostra proposta non è stata eh sicuramente percepita se la destra ha vinto stravinto e evidentemente la destra ha saputo intercettare domande politiche che mh il centro-sinistra non ha eh saputo esprimere comprendere quindi ehm ecco io poi faccio anche una precisazione di questo perché mi auguro che si apra una fase di seria autocritica all'interno del PD perché finché non si capisce dove eh si è sbagliato e in generale né e finché non si capisce dove si è sbagliato è difficile correggere i propri errori ehm volevo fare ecco una osservazione su questo cioè dopo il lungo psicodramma sul congresso del PD adesso se ne apre un altro ed è quello sulla sconfitta del PD io onestamente mh ecco mi verrebbero espressioni poco fini diciamo sono stufo eh ma penso non solo io a eh di avere questa sensazione di questa centralità mediatica nel dibattito pubblico sui problemi del PD mh io penso ci siano problemi molto più interessanti molto più seri mi piacerebbe che si parlasse dei disoccupati mi piacerebbe che si parlasse di povertà mi piacerebbe che si parlasse di precariato mi piacerebbe che si parlasse di morti sul lavoro siamo ormai arrivati alla media di tre morti al lavoro al giorno una strage ecco eh se invece di domandarci eh a cosa sono dovuti i turbamenti del PD e come si possono superare questo sforzo nazionale che è diventato questa missione nazionale che è diventata no mh sale the children ecco qua sale the PD ecco se si superasse questa fase non sarebbe poi così male soprattutto per il PD perché eh forse se distogliesse lo sguardo dal proprio umbelico e eh si rivolgesse a problemi più seri più eh drammatici eh forse ecco ci sarebbe ci sarebbe la svolta mi scuso per il eh per lo sfogo però onestamente quanto si vede in queste ore eh su sui mass media è è stucchevole non so definirlo in altro modo è stucchevole non eh avete presente e poi mi taccio quella canzone di Rino Gaeta non ti regga più ecco mh la dedicherei al PD save the PD è uno slogan simpaticissimo potremmo riproporlo prossimamente e potremmo titolare così la puntata assolutamente elezioni 2023 save the PD professore prima di passare la parola a Umberto del Noce le chiedo è d'accordo con Salvini che ha twittato ironicamente ecco l'effetto eh allora qua su questo punto ci sono due scuole di pensiero che chiamiamo la la scuola di pensiero Salvini e la scuola di pensiero Cacciari Salvini e anche Donzelli hanno eh detto sì si è visto l'effetto Schlein cioè sconfitta eh Cacciari eh recupera eh l'espressione effetto Schlein dicendo eh Schlein dicendo no guardate che l'effetto Schlein c'è stato perché se non ci fosse stata la Schlein sarebbe stato ancora peggio allora ripeto tutto ciò fa parte di questo psicodramma eh nazionale eh bisogna andare a vedere eh dati eh per capire esattamente quale delle due scuole di pensiero la ragione penso che noi dovremmo dedicare i nostri sforzi a obiettivi più seri più nobili anche eh sicuramente eh io sto seguendo con una discreta attenzione appunto in mass media eh ci sono state storie locali eh eh particolari per cui si va da eh appunto questa vicenda di eh Vicenza dove ha vinto il candidato PD che però è un lettiano eh non uno schlagnano eh a una a situazioni come quella di Altamura dove ci sono state delle eh alleanze alquanto bizzarre per cui leghe PD eh contro eh fratelli d'Italia e mh Italia Viva e Italia Exit per arrivare fino a Brindisi eh oggi eh su eh Repubblica Online c'era un metropolis interessante su questo con inter intervento anche vivace del governatore Emiliano a Brindisi dove ha vinto il centro destro destra mh con un eh candidato eh ex eh ex o non so se sia ex comunque socialista che faceva parte prima dello staff del ehm presidente della della provincia e mh e quindi ci sono queste storie locali eh particolari l'effetto Schlein io vedo un terzo effetto Schlein cioè che è quello di eh eh anestetizzare le nostre intelligenze ulteriormente quindi io direi ehm blocchiamo ecco questo per quanto ci è dato fare blocchiamo questo chiamiamoci fuori da questo eh psicodramma ecco perché eh francamente è improduttivo e non non serve a a nessuna ecco fuorviante e rientriamo sempre scusate se mi ripeto però rientriamo sempre nelle famose armi di distrazione di massa perché i problemi sono tutt'altri tutt'altri assolutamente assolutamente umberto del noce passiamo dallo sconfitto al vincitore perché appunto come abbiamo visto il il centrodestra si è imposto con forza in in queste elezioni amministrative quindi gli italiani hanno confermato eh in linea di massima quello che è stato il voto che hanno espresso otto mesi fa per le eh politiche eh del del settembre 2022 e eh una destra che si impone non solo in Italia ma anche in Europa abbiamo visto che in Spagna è caduto il governo Sanchez proprio a causa della sconfitta elettorale che ha subito nelle elezioni locali il partito di estrema destra Vox il partito spagnolo di estrema destra Vox è in grande crescita il partito che cresce di più in Spagna eh discorso eh simile vale per la Francia dove sappiamo che il governo guidato da Macron è in netta difficoltà con una Marine Le Pen pronta a eh fare le scarpe diciamo diciamo così e e quindi una destra che avanza in Italia in Europa nel nord Europa ecco tu come leggi tanto la vittoria italiana quanto ovviamente questo vento come lo chiama Schlein questo vento di destra che eh sta eh cioè diciamo sta prendendo tutta l'Europa ma secondo il mio modo di vedere ehm ci sono due fenomeni eh che si vanno a sommare eh dalla parte dalla parte vi è se noi osserviamo le vicende politiche ma degli ultimi secoli si può dire ma sicuramente dell'ultimo periodo ci sono due principali polarità che attirano alternativamente l'elettorato che eh diciamo dalla parte la libertà e dalla parte la sicurezza e nei momenti di maggior tensione e paura sociale l'elettorato tende no a rifugiarsi in eh opzioni di voto più conservatrici e quindi dalla parte credo che sia sintomatico di anni di intensa narrativa eh pubblica tutta basata sull'emergenza sulla paura che sia sociale che sia economica che sia climatica la guerra questo fisiologicamente eh diciamo avvantaggia le posizioni più conservatrici e però parallelamente eh vi è un 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 impoverimento della della sinistra che che ha comunque tradito il proprio elettorato non solo in Italia se noi guardiamo un caso italiano che è emblematico ci tocca più da vicino diciamo con Tangentopoli no viene spazzata via la vecchia classe politica al partito socialista rimane il partito comunista che però si affretta no a cambiare veste perde il riferimento al comunismo e poi la PDS perde anche ogni riferimento alla sinistra diventa semplicemente il partito democratico e di fatto poi vediamo che è stato il partito che ha portato avanti privatizzazioni liberalizzazioni eh no influito anche negativamente sulle condizioni dei lavoratori sulla precarietà quindi quello che possiamo dire è che di fatto abbiamo assistito a una sinistra che ha rinunciato e non solo in Italia a qualsiasi riferimento al socialismo all'anticapitalismo ha comunque un riferimento ideale alternativo alle dinamiche del capitalismo e del liberismo e per concentrarsi unicamente sui diritti civili questo però ha fatto anche un po' il gioco dell'elite perché di fatto i diritti civili senza diritti sociali sono una scatola vuota per cui fondamentalmente è stato quasi un'alleanza fra i partiti della sinistra e diciamo la parte più finanziaria del capitalismo e questo secondo me gran parte dell'elettorato l'ha capito e lo sta capendo ed è profondamente deluso e anche in materie di macroeconomia la visione portata avanti dalle sinistre della nostra sinistra non è sicuramente alternativa al capitalismo guardiamo anche la posizione sul mese sull'europa in generale e questo secondo me lo sta pagando in termini elettorali perché l'elettore medio sta pagando queste scelte sulla propria pelle ed è stufo di formule trite ritrite di lotte sui diritti civili che si stanno allargando però contemporaneamente all'aumento della povertà delle disuguaglianze sociali della tensione sociale e questo sta emergendo sempre più spudoratamente e l'elettorato lo sta mostrando infatti un dato anche quello del astensionismo che anche a livello locale sta toccando punte molto elevate e credo che molti elettori delusi da questo stato di cose semplicemente rinunciano a esercitare il loro diritto di voto proprio anche perché ormai è evidente che il potere si allontana sempre di più dal dei centri locali e va viene esercitato altrove e ormai è sempre più comune la percezione che in realtà sia sempre più intangibile questo potere sempre sempre più altrove tra virgolette e che quindi in realtà il proprio voto non riesca in ogni caso a spostare in maniera efficace gli equilibri complice anche messaggi politici ambivalenti e grandissimi diciamo cambio di casacche che vi sono state o tradimenti di promesse elettorali che comunque contribuiscono a una certa apatia o a una delusione in sé all'elettorato a favore di un maggiore astensionismo che comunque va a beneficiare poi noi grandi partiti che si freggiano di maggioranze che in realtà non hanno cioè o meglio hanno delle maggioranze che però se vengono rapportate no al numero degli italiani sono di fatto esigue e non rappresentano sicuramente una grande anima di questo paese che non è soddisfatto che paga sulla propria pelle scelte politiche ed economiche ma che non ha voce all'interno di un dibattito pubblico di politicamente corretto in cui certe posizioni non si possono avere e certe istituzioni o certe dinamiche di potere non possono in qualche modo venire contestate e secondo me questo risultato elettorale è anche figlio di di questa situazione assolutamente concordo in pieno e tu giustamente dicevi la sinistra che ovviamente poi in Italia è rappresentata dal PD come primo partito ha pagato lo scotto di essersi piegata totalmente al capitalismo all'ideologia capitalista e ti aspettavi che invece Giorgia Meloni o comunque il centrodestra non pagasse lo scotto di questa sudditanza perenne alla Nato visto che come abbiamo detto più volte la gran parte degli italiani è contraria alla guerra cioè ti aspettavi che comunque il centrodestra venisse confermato in così larga parte? Ma io sì me l'aspettavo anche perché comunque in qualche modo la narrativa ha presentato questa scelta come una non scelta come un campo obbligato e ha presentato il blocco occidentale come un blocco solido indiscutibile e secondo me è stata apposta come una di quelle di quelle di quelle materie di cui accennavamo prima in cui non è possibile contestazione una volta la sinistra permetteva per esempio di contestare la Nato ha smesso di farlo quando io ero ragazzino mi ricordo al liceo noi quelli di sinistra dicevano fuori dalla Nato e adesso però c'è un grande silenzio da quel punto di vista perché si è compreso che quell'argomento non si può toccare non si può contestare l'impostazione dell'Unione Europea non si può contestare l'austerità come dogma assoluto e sono tante cose che non si possono contestare tutto questo non detto crea una falsa coscienza nell'elettore di sinistra diciamo quelli che perlomeno si accorgono che c'è qualche cosa che non torna e quindi credo che l'elettore di destra o comunque chi ha dato la fiducia e la Meloni probabilmente non ha percepito una grande incoerenza nella scelta di comunque seguire la Nato e in generale il blocco occidentale perché probabilmente comunque arriva da un'area di pensiero in cui questa partecipazione trova comunque una razionalità però per esempio recentemente ho letto una frase di Pertini apertamente contro la Nato per esempio va bene che erano altri tempi però erano tempi in cui la sinistra si permetteva un certo tipo di posizioni però la sinistra senza socialismo diventa un partito di destra in realtà se poi vediamo diciamo i temi che che contano più più profondamente ecco diciamo che probabilmente quelli che oggi hanno ancora il coraggio di dire fuori l'Italia dalla Nato fuori l'Italia dall'Unione Europea e dall'Euro rappresentano proprio quel 50% di assenzionismo quel 40-50% di assenzionismo secondo me sì tutti anche per esempio gli imprenditori che comunque vedono sulla propria pelle o pagano con la propria pelle il peso di certe scelte anche in fatto per esempio di austerità e così di macroeconomiche in generale al di fuori di una narrativa così sempre a tutti i costi europeista e io non discuto sul sentirsi appartenenti a una comunità europea filosoficamente dico più pragmaticamente l'Unione Europea come istituzione e come dinamica di governo e come scelte macroeconomiche perché a volte viene giocato tutto su un equivoco fra le due cose come se sentirsi appartenenti a una comunità tra virgolette di spirito significasse non poter contestare l'impostazione che le sei dato però sono due cose disgiunte secondo me si dovrebbe avere il coraggio di sentirsi anche europei ma contemporaneamente mettendone in discussione i meccanismi democratici e macroeconomici assolutamente professore una battuta sul centro-destra le va? sì il centro-destra ha espresso due sta esprimendo due capacità primo sta intercettando l'ho già detto prima ripeto perché questo viene sistematicamente sottovalutato sta intercettando domande politiche reali cioè non è che la gente vota a destra perché per caso perché ci sono meno mancini che votavano a sinistra ci sono più destrorsi votano a destra cioè no la destra evidentemente intercetta domande politiche finché non si capiscono queste domande politiche non si è in grado di interpretare il cambiamento in atto in Italia cioè io noto un atteggiamento di si chiama tecnicamente riduzione della dissonanza cognitiva cioè se è un termine psicologico che però viene usato anche in scienza politica cioè se io vedo qualcosa che non mi piace cioè se la realtà mi dice qualcosa che non mi piace io cosa faccio? nego quella realtà lo sminuisco la ritenziono quindi sembra quasi che questo successo della destra evidente sia una sorta di errore di incidente prima o poi torneranno sui loro passi no la destra ha la capacità di interpretare domande che emergono che ci sono sono presenti nella società civile e questo va capito non solo rispettato perché è un principio democratico ma va capito non non ci si può limitare a demonizzarlo sentivo un paio di settimane fa un commentatore che diceva sì va bene la Meloni ha vinto le elezioni però eccetera 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 no la Meloni ha vinto le elezioni non però eccetera eccetera ecco vorrei questo è importante e finché la sinistra si muove con una supponenza francamente imbarazzante ecco l'Italia continuerà a non avere un'opposizione che è un principio di qualunque democrazia punto uno punto due la destra ha dimostrato una capacità che la sinistra non ha e cioè quella di muoversi in alcune arene divisa di presentarsi come competitiva al suo interno ma poi nei momenti strategici di essere unita la destra sa fare sa fare questo che vuol dire saper fare politica la sinistra democratica la sinistra il centro-sinistra chiamatelo come volete non sa fare non sa fare questo e questo è un lo ripeto perché si sottovalda questo ma questo è un vulnus non alla sinistra cosa la quale uno può tranquillamente infischiarsene ma è un vulnus per la democrazia stessa cioè una democrazia che ha un'opposizione imbelle un'opposizione che balbetta è una democrazia monca zoppicante e quindi ecco più attenzione meno disprezzo meno supponenza più attenzione invece per quello che la destra il centro-destra o la destra-centro a seconda di come viene chiamata sta facendo perché c'è qualcosa da imparare assolutamente vi ringrazio prego un commento che unisce un attimo quello che ha detto il professore a quello che dicevo io prima secondo me sta anche in quello che giustamente notava nel senso che la Meloni comunque ha vinto le elezioni con posizioni originariamente molto contrastanti con l'austerità e in generale con per esempio portando avanti la battaglia contro il MES anche se adesso abbiamo visto che certe posizioni ne sta addolcendo però la campagna elettorale ha vinto anche con due messaggi la dimostrazione che comunque c'è una grande fetta di popolazione che comincia a porsi delle questioni su quei temi temi che però la sinistra in qualche modo non vuole affrontare e quindi poi si delinea un po' una sorta di divisione fra un capitale anche industriale nazionale che richiede un certo tipo di protezioni e invece spinte più così finanziarie di un altro tipo di capitale senza base nazionale e in qualche modo il silenzio della sinistra la pone più diciamo a sostegno di questo secondo capitale mentre comunque la destra ha vinto le elezioni anche un po' portando avanti una battaglia così di protezione verso il capitale nazionale secondo me la sinistra dovrebbe riflettere su questo perché è su questo terreno che a meno a livello interno ha perso la battaglia sta perdendo in questo momento la battaglia assolutamente speriamo che se ne ricordi anche se Elisla non mi sembra la persona adatta per far ritornare alla sinistra agli splendori ai fastidi di un tempo ma non si sa mai lasciamo il dubbio ricordo ai nostri spettatori che questo weekend sono andate alle elezioni amministrative anche Sicilia e Sardegna ovviamente per quanto riguarda il primo turno quindi il ballottaggio si terrà nelle prossime settimane ovviamente sarà un argomento che tratteremo sicuramente nelle prossime puntate di Polis così come la questione del MES che abbiamo accennato prima vi ringrazio di essere stati con me per questo speciale di Polis grazie al professor Luca Lanzalaco buonasera a tutti e grazie ovviamente a Umberto Del Noce buonasera arrivederci alla prossima puntata di Polis arrivederci arrivederci a